Poteva essere l'occasione del sorpasso o dell'allungo e invece non è stato nulla di tutto questo. Accademia Calcio Roma e Lodigiani si strattonano a vicenda imponendosi 1-0-0 che a conti fatti fa sorridere più gli ospiti dei padroni di casa. Vista l'ora abbondante giocata con l'uomo in meno in una gara dove ai ragazzi di Moro è mancata la chiave giusta per aprire la cassaforte bianco-rossa. Eppure l'avvio è scoppiettante. Già al sesto De Carlo mette un buon pallone verso Di Mascio che trova il tempo giusto per deviare ma non la necessaria precisione per superare Pocci. Colpita subito l'Accademia ci mette poco a rispondere. Sull'ibaltamento di campo Mattia esce in presa bassa ma finisce col varcare la propria area di competenza. Inevitabile un calcio di punizione su cui sviluppi arriverebbe l'1-0. Invalidato però dalla posizione irregolare di De Persis sembrerebbe il preludio a una gara divertente ma al quarto d'ora cambia tutto. Lico calcia alto una buona punizione. Se la prende con se stesso ma il direttore di gara sente una bestemmia. Rosso diretto e Lodigiani costretta in dieci uomini. Per l'Accademia potrebbe essere un aiuto ma la superiorità numerica finisce quasi col complicarle la vita. I ragazzi di Moro faticano a trovare le contromisure salvo tentare di riuscirvi al 34esimo quando De Persis sfonda a sinistra e mette al centro un cross sul quale Cricco manca la deviazione decisiva di un soffio. Sarebbe quella la strada da seguire e infatti in avvio di ripresa il numero 11 ispira un'altra percussione lanciando Mascioli. Sul filtrante questa volta Cricco ci arriva ma sulla sua girata Mattia si esalta tenendo il risultato incollato sulla parità. Fiammata è buona ma l'Accademia manca la continuità per ripetersi. Lodigiani dal canto suo copre e riparte chiedendo anche un calcio di rigore sul quale il direttore di gara lascia proseguire al quarto d'ora. Poi più nulla almeno fino al 34esimo quando i padroni di casa cercano la strada del successo attraverso un calcio da fermo e la mira di Tedesco sarebbe anche giusta se non fosse la traversa a fermare l'ultimo tentativo di sbloccare la parità. Ma dallo 0-0 non ci si muove più. Grazie a tutti.